Torta rovesciata in pentola! Abbiamo 4 uova, un bicchierino di rum, 120 di burro, 180 di zucchero, 230 di farina, mezza bustina di lievito, 2 mele e un po' di zucchero di canna. Montiamo le uova con lo zucchero fino a renderle sfumose. A questo punto aggiungiamo il duro e una parte di farina. Versiamo quindi il nostro rum e versiamo l'altra parte di farina. Concludiamo la ricetta con il nostro lievito. Tagliamo le nostre mele a fettine. Mettiamo un po' di olio e farina nel tegame e spolverizziamo con dello zucchero di canna. Dispoliamo quindi le nostre mele e versiamo il nostro composto. Concludiamo con qualche pezzettino di mela che è rimasto e copriamo con il nostro magic cook. 3 minuti a fiamma alta! Passati i 3 minuti, ancora 20 minuti a fiamma bassissima. Una volta passato il tempo, con lo stecchino vediamo se è bella asciutta e lasciamo riposare per qualche minuto. Tiriamo fuori la nostra bellissima torta rovesciata e spolverizziamo con un po' di zucchero a velo. Ed ecco qua la nostra torta pronta per essere mangiata, sempre con Magic Cooker, il coperchio magico più venduto al mondo.